L'unica certezza è. Un'assenza. Davide Calabria non giocherà sabato a Genova l'ottavo di Coppa Italia con la Sam perché squalificato la munizione rimediata nella finale della scorsa edizione, persa contro la Juve, è stata pesante, perché l'esterno difensivo rossonero era diffidato. Niente Calabria, dunque, e ovviamente saranno fuori causa anche Buonaventura stagione finita, Biglia e Calabria per entrambi rientro previsto a febbraio. Sono buone, invece, le condizioni di Andrea Conti, che spera di giocare al Ferralis. Magari dall'inizio, se Rino Gattuso non dovesse optare per l'opzione Abate, più collaudata.Suso e gli altri, in porta si prepara Reina, portiere di Coppa rimasto senza Europa League. Sul lato sinistro della difesa, immaginando un po' di turnover in vista della Supercoppa Jedda, 16 gennaio, la Xal spera di giocare dall'inizio al posto di Rodriguez. Accanto a Romagnoli, ex della partita, toccherà uno tra Musacchio e Zapata favorito l'argentino. Nel probabile 4-3-3, Giannolu dovrebbe completare la linea mediana con Chessie e Bacayoko Mauri pronto a subentrare. Punto in attacco sicuramente ci sarà Suso, squalificato a Jedda al centro dovrebbe esserci Higuain, protagonista di mille voci di mercato, con Castiglievo a più di putrone a sinistra. Possibile l'esordio immediato di Lucas Pacutà, almeno per qualche minuto.Desktop minore di Spend Class uguale notification barra spangazzetta tx link copia embed o copiati potrebbero interessare anche questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento ha consenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui.Accetto security warning Please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information.